Finalmente stasera Saravano e Stipport, dopo un anno travagliato, molto sudato sia di impegni lavorativi riguardo a questo locale e sia per la pandemia che comunque non ci ha lasciato un attimo di respiro, però ringraziando a Dio oggi possiamo dire Aravim e Stipport, speriamo di tenerle sempre aperte e di accogliere quanto più gente possibile perché abbiamo perso tanto. Ristorante ma anche bed and breakfast? Sì, abbiamo associato questa cosa di conforto per confortare i nostri clienti anche se hanno bisogno di rimanere nel momento in cui gli dovesse piacere anche la location e quindi vogliono rimanere anche per la sera o per quelli che magari ci arrivano da fuori e quindi vogliono fermarsi qui per qualche giorno.